La via della voce presenta Uno dei dispersi di Ambrose Beers Lettura di Francesco De Manuele Jerome Searing, un soldato semplice dell'esercito del generale Sherman, allora le prese con il nemico sul monte Kenzo e nei suoi dintorni, in Georgia voltò le spalle a un drappello di ufficiali con i quali stava parlando a bassa voce. Superò un terrapieno e scomparve in una foresta. Nessuno degli uomini in fila dietro il terrapieno gli aveva detto una parola e lui era passato senza rivolgere loro nemmeno un cenno di saluto, ma tutti quelli che lo videro capirono che a quell'uomo impavido era stato affidato un incarico pericoloso. Sebbene fosse un soldato semplice, Jerome Searing non prestava servizio sul campo, ma essendo stato inserito nell'organico con la qualifica di attendente, era stato assegnato al quartier generale della divisione. Il termine attendente comprende una moltitudine di incarichi. Un attendente può essere un messaggero, un impiegato, il servitore di un ufficiale, qualsiasi cosa. Può svolgere mansioni che non rientrano nelle disposizioni e negli ordinamenti dell'esercito. La loro natura può dipendere dalla sua abilità, da favoritismi o dal caso. Il soldato Searing, tiratore provetto, giovane, coraggioso, intelligente e sprezzante del pericolo, era un esploratore. Il generale a capo della sua divisione non era disposto a obbedire ciecamente agli ordini senza sapere cosa lo aspettasse, anche quando i suoi uomini non prestavano servizio distaccati dall'esercito, ma facevano parte delle sue fila. Ne si accontentava di ricevere informazioni sui suoi vis-à-vis attraverso i consueti canali. Voleva sapere di più di quanto gli veniva comunicato dal comandante del corpo d'armata e dalle schermaglie tra i reparti avanzati. Per questo motivo si serviva dell'audacia straordinaria, della conoscenza dei boschi, della vista acuta e della lingua schietta di Jerome Searing. In questa occasione le istruzioni erano semplici. Il soldato doveva avvicinarsi il più possibile al fronte nemico per apprendere quanto più poteva. Nel giro di pochi minuti Searing aveva raggiunto il reparto avanzato. Gli uomini che vi prestavano servizio erano accampati a gruppi di due e di quattro dietro piccoli cumuli di terra rimossa dalla leggera depressione in cui si trovavano, con i fucili che sporgevano dai rami verdi con i quali avevano celato le loro esigue fortificazioni. La foresta si estendeva senza interruzioni verso il fronte, così solenne e silenziosa che solo con uno sforzo della fantasia la si poteva immaginare pullulante di uomini armati, allerta e vigili. Una foresta irta di possibili scontri. Dopo essersi fermato un istante in una di queste trincee per comunicare ai fucilieri le sue intenzioni, Searing procedette furtivamente Carponi e scomparve presto dalla vista nella fitta boscaglia. «È la sua fine», disse uno degli uomini. «Mi piacerebbe avere il suo fucile, altrimenti quei tipi lo useranno per fare del male a uno di noi». Searing continuò a strisciare approfittando di ogni irregolarità del terreno e della vegetazione per nascondersi meglio. Con gli occhi scrutava ogni cosa, con le orecchie registrava ogni suono. Trattenne il respiro e, quando udì lo scricchiolio di un ramo sotto un ginocchio, smise di avanzare e si appiattì a terra. Era un lavoro lento, ma non noioso. Il pericolo lo rendeva eccitante. Ma Searing non lasciava trasparire alcun segno di emozione. Il suo battito era regolare e aveva i nervi saldi come se stesse cercando di catturare un passero. «Sembra che sia passato un secolo», pensò. «Eppure non posso essermi allontanato molto. Sono ancora vivo». Sorrise per il suo metodo personale di calcolare le distanze e si trascinò avanti. Un attimo dopo si appiattì improvvisamente a terra e giacque a lungo immobile. Attraverso uno stretto varco tra i cespugli vide un piccolo tumulo di terra gialla, una delle trincee per i fucilieri del nemico. Poco dopo sollevò il capo con circospezione, lentamente. Quindi il resto del corpo, appoggiandosi sulle mani spalancate lungo i fianchi, senza mai distogliere lo sguardo dalla collinetta di terra. Un attimo dopo era in piedi col fucile in mano e avanzava a grandi passi rapidi senza cercare di nascondersi. Aveva interpretato i segnali nel modo giusto, qualsiasi essi fossero. Il nemico se n'era andato. Per essere sicuro senza ombra di dubbio, prima di tornare a fare rapporto su una questione così importante, Searing si spinse fino alla linea delle trincee abbandonate, correndo di rifugio in rifugio nei punti in cui la foresta si faceva più rada, con gli occhi sempre allerta per individuare eventuali soldati rimasti indietro. Raggiunse il limitare di una piantagione, una di quelle case coloniche desolate e abbandonate durante gli ultimi anni di guerra, infestate dai rovi, deturpate dalle recinzioni a pezzi e sfregiate dagli edifici disabitati che presentavano aperture vuote, al posto delle porte e delle finestre. Dopo un'attenta ricognizione da dietro il nascondiglio sicuro di un folto di giovani pini, Searing attraversò di corsa un campo e un frutteto, finché non raggiunse una piccola struttura, situata a una certa distanza dalle altre costruzioni della fattoria, su una lieve altura. Pensò che questo gli avrebbe consentito di dominare un vasto tratto di campagna nella direzione in cui credeva che il nemico si fosse diretto durante la ritirata. L'edificio, costituito in origine da una sola stanza, sorretta da quattro pilastri alti circa tre metri, adesso era ridotto a poco più di un tetto. Il pavimento era crollato. Le travi e le assi erano accatastate alla rinfusa sul terreno sottostante, o appoggiate di traverso una accanto all'altra, non completamente sradicate dai loro fissaggi. Anche i pilastri portanti non erano più in posizione verticale. Si aveva l'impressione che l'intero edificio sarebbe crollato al semplice tocco di un dito. Nascosto tra le macerie in cui erano ridotte le travi e la pavimentazione, Searing spaziò con lo sguardo sulla radura che si stendeva tra il suo punto d'osservazione e uno sperone del monte Kensou, a un chilometro di distanza. La strada che attraversandolo portava in cima allo sperone era affollata di truppe. La retroguardia del nemico in ritirata, con le canne dei fucili che scintillavano alla luce del sole mattutino. Adesso Searing aveva appreso tutto ciò che poteva sperare di sapere. Il dovere gli imponeva di ritornare il più in fretta possibile al comando e riferire la scoperta. Ma la colonna grigia dei confederati, che arrancava lungo la strada di montagna, lo tentava in modo singolare. Il suo fucile, uno Springfield comune, ma munito di alzo a globo e grilletto sensibile, avrebbe scaricato con facilità su di loro i suoi 35 grammi di piombo sibilante. Probabilmente ciò non avrebbe condizionato la durata e l'esito della guerra, ma il compito di un soldato è uccidere. E anche la sua abitudine, se è un bravo soldato. Searing armò il fucile e aggiustò il grilletto. Ma sin dalla notte dei tempi era stato deciso che il soldato semplice Searing non avrebbe ucciso nessuno quel luminoso mattino d'estate e che non sarebbe stato lui ad annunciare la ritirata dei confederati. Da innumerevoli anni, gli eventi si erano concatenati in modo tale, in quel meraviglioso mosaico, alcune parti del quale a malapena percepibili definiamo storia, che le azioni che egli aveva intenzione di compiere avrebbero guastato l'armonia dell'intero disegno. All'incirca 25 anni prima, l'autorità incaricata di eseguire l'opera secondo quel disegno si era premunita contro un simile evento sfortunato, facendo nascere un certo bambino in un piccolo villaggio ai piedi dei Carpazzi, allevandolo premurosamente, controllandone l'istruzione, indirizzandone i desideri in ambito militare e, a tempo debito, facendone un ufficiale di artiglieria. Per la concomitanza di un numero infinito di influssi benevoli e per la loro preponderanza su un numero infinito di influssi contrari, questo ufficiale di artiglieria era stato costretto a venir meno alla disciplina e a scappare dal suo paese natio per sfuggire alla punizione. Era stato diretto a New Orleans invece che a New York, dove un ufficiale di reclutamento lo stava aspettando sul molo. Fu arruolato e promosso, e le cose vennero disposte in modo tale che egli si trovasse al comando di una batteria confederata a tre chilometri circa dal punto in cui Jerome Searing, l'esploratore federale, stava armando il fucile. Nulla era stato lasciato al caso. In tutte le fasi della vita di entrambi gli uomini, nella vita dei loro contemporanei e dei loro antenati, e nella vita dei contemporanei dei loro antenati, era stata fatta la cosa giusta per determinare l'esito desiderato. Se qualcosa fosse stato trascurato in questa concatenazione di fatti, quella mattina il soldato semplice Searing avrebbe potuto sparare sui confederati in ritirata e forse li avrebbe mancati. Accade invece che un capitano di artiglieria dei confederati, non avendo nulla di meglio da fare mentre aspettava il suo turno di ritirarsi e di levare le tende, si divertì a inclinare verso destra un cannone e a puntarlo su ciò che aveva scambiato per un gruppo di ufficiali federali in cima a una collina. E fece fuoco. Aveva mirato troppo in alto e mancò il bersaglio. Mentre Jerome Searing alzava il cane del fucile e fissando i confederati lontani giudicava quale fosse il punto migliore su cui assestare il colpo con la maggiore probabilità di lasciarsi dietro una vedova, un orfano o una madre senza figli o forse tutte e tre le cose, poiché il soldato semplice Searing, sebbene avesse ripetutamente rifiutato una promozione, non era privo di una certa ambizione. Udì un fruscio nell'aria simile a quello prodotto dalle ali di un grande uccello che si getta impicchiata sulla preda. Prima che riuscisse ad avvertirne la tonalità, il rumore si trasformò in un orribile rombo roco quando il missile che l'aveva prodotto sbucò dal cielo diretto verso di lui. Colpì con un impatto assordante uno dei pilastri che reggevano l'intrico di travi sopra la sua testa, fracassandolo in mille pezzi e abbatté l'edificio pericolante con un frastuono inaudito, sollevando nuvole di polvere accecante. Quando Jerome Searing riprese conoscenza, non si rese immediatamente conto di cosa fosse successo. In effetti, passò parecchio tempo prima che riaprisse gli occhi. Per un po' credette di essere morto e sepolto e cercò di rievocare qualche momento delle esequie. Si immaginò la moglie inginocchiata sulla sua tomba che sommava il proprio peso a quello della terra sul suo petto. Quelle due, la vedova e la terra, avevano schiacciato la bara. Se i bambini non avessero convinto la donna a tornare a casa, lui non sarebbe riuscito a respirare ancora per molto. Sentì che qualcosa non andava. «Non posso parlare con lei», pensò. «I morti non hanno voce e se apro gli occhi mi si riempiranno di terra». Aprì gli occhi. Un ampio squarcio di cielo azzurro spuntava dalla cima dei rami. In primo piano, escludendo dalla vista alcuni alberi, si ergeva un tumulo alto e tetro, dalla sagoma angolosa e attraversato da un insieme intricato e in forme di linee rette. Il tutto si trovava a una distanza inimmaginabile, così smisurata che si sentì affaticato al solo pensiero e fu costretto a chiudere gli occhi. In quel momento percepì una luce insopportabile. Gli rimbombava nelle orecchie un suono simile al fragore profondo e ritmico di un mare lontano, le cui onde si infrangevano una dopo l'altra sulla spiaggia. E da questo rumore, di cui sembravano far parte, o al di là del quale forse provenivano, mescolandosi con il suo interminabile bisbiglio, giungevano le seguenti parole distinte. «Gerome Searing, sei come un topo in trappola, in trappola, in trappola». A un tratto calò un silenzio profondo, un'oscurità assoluta, una tranquillità infinita, e Jerome Searing, perfettamente consapevole della sua condizione di topo e ben conscio della trappola in cui si trovava, memore di tutto e per nulla allarmato, aprì di nuovo gli occhi per fare una ricognizione, per rilevare la forza del nemico, per pianificare la strategia difensiva. Era intrappolato in una posizione reclinata, con la schiena saldamente sorretta da una solida trave. Un'altra trave gli era crollata di traverso sul petto, ma lui era riuscito a divincolarsi un poco, in modo che non lo opprimesse più, pur restando inamovibile. Un gancio collegato alla trave in diagonale lo aveva bloccato contro una catasta di assi alla sua sinistra, immobilizzandogli il braccio da quella parte. Le gambe, lievemente divaricate e stese sul terreno, erano ricoperte dai piedi alle ginocchia da un mucchio di macerie che sovrastava il suo orizzonte ristretto. La testa era paralizzata come da una morsa. Poteva muovere gli occhi, il mento, nient'altro. Solo il braccio destro era almeno in parte libero. «Devi aiutarci a uscire di qui», disse Searing al suo arto. Ma non riusciva a estrarlo da sotto la pesante asse che gli incombeva sul petto, né a spostarlo verso l'esterno per più di quindici centimetri all'altezza del gomito. Searing non era ferito gravemente, né provava dolore. Un frammento staccatosi dal pilastro schiantato lo colpì con forza alla testa e, in concomitanza con l'improvvisa e spaventosa crisi del sistema nervoso, lo stordì per un po'. Lo stato di incoscienza, compreso il tempo impiegato per riprendersi durante il quale ebbe strane fantasie, era probabilmente durato solo pochi secondi, poiché la polvere dei detriti non si era ancora del tutto dissipata quando lui iniziò a esaminare accuratamente la situazione. Con la mano destra parzialmente libera, cercò di afferrare la trave che gli attraversava il petto, pur senza comprimerlo. Non gli fu possibile in nessun modo. Non riuscì ad abbassare la spalla in modo da infilare il gomito al di là dell'estremità dell'asse più vicina al ginocchio. Andato a vuoto quel tentativo, non poté sollevare l'avambraccio e la mano per agguantare la trave. Il gancio che con essa formava un angolo verso il basso e all'indietro gli impediva di fare qualsiasi movimento in quella direzione e tra questo e il suo corpo c'era uno spazio ampio meno della metà della lunghezza del suo avambraccio. Naturalmente non riuscì a far passare la mano né sopra né sotto la trave. In effetti, non arrivava nemmeno a toccarla. Resosi conto del proprio fallimento, desistette e iniziò a chiedersi se fosse in grado di raggiungere le macerie accatastate sulle gambe. Mentre esaminava il mucchio allo scopo di risolvere la questione, la sua attenzione venne attratta da quel che sembrava un anello di metallo scintillante posizionato proprio davanti ai suoi occhi. Di primo a Kito gli parve che circondasse una sostanza completamente nera e che il suo diametro misurasse all'incirca un centimetro. All'improvviso si rese conto che la sostanza scura non era altro che l'ombra e l'anello in realtà era la bocca del suo fucile che spuntava dalla catasta di macerie. Non ci mise molto a convincersi che le cose stavano così. per quanto magra fosse la consolazione di tale certezza. Chiudendo ora l'uno ora l'altro occhio riuscì a vedere una parte della canna fino al punto in cui era nascosta dai detriti che la trattenevano. Con l'occhio destro riusciva a scorgere il lato corrispondente apparentemente nella stessa angolazione con cui vedeva l'altro lato con l'altro occhio. Guardando con l'occhio destro l'arma sembrava rivolta verso un punto a sinistra della sua testa e viceversa. Non riuscì a vedere la parte superiore della canna ma poté individuare la parte inferiore del calcio lievemente inclinata. In effetti l'arma era puntata esattamente al centro della sua fronte. Quando si rese conto della situazione in cui si trovava e si ricordò che un attimo prima della disavventura il cui esito era quella circostanza spiacevole aveva armato il fucile e aggiustato il grilletto in modo tale che con un semplice tocco sarebbe partito un colpo. Il soldato semplice Seering fu colto da una sensazione di disagio ma non aveva nulla a che fare con la paura. Era un uomo coraggioso alquanto pratico dell'aspetto dei fucili da quella distanza e anche di quello dei cannoni e gli sovvenne con uno stato d'animo quasi divertito un episodio verificatosi durante l'assalto al Missionary Ridge dove avvicinandosi a una feritoia dei nemici dalla quale aveva visto un pesante cannone sparare a raffica sugli assalitori per un attimo aveva pensato che l'arma fosse stata ritirata. Nell'apertura non c'era nient'altro che un cerchio d'ottone. Aveva capito di cosa si trattasse appena in tempo per tirarsi da parte allorché una nuova raffica di piombo venne scaricata giù per il pendio brulicante di uomini. Trovarsi di fronte a un'arma da fuoco è uno degli avvenimenti più frequenti nella vita di un soldato. A un'arma da fuoco è per giunta allo sguardo maligno che luccica dietro di essa. Questo è il compito di un militare. Eppure il soldato semplice Searing non si trovò affatto a suo agio in quella situazione e distolse lo sguardo. Dopo aver brancolato in vano per un po' con la mano destra fece l'inutile tentativo di liberare la sinistra. Poi cercò di divincolare la testa la cui rigidità lo infastidiva a maggior ragione perché ne ignorava la causa. Quindi provò a liberare i piedi ma mentre usava i possenti muscoli delle gambe a quello scopo gli venne in mente che spostando le macerie che li tenevano intrappolati avrebbe potuto innescare il fucile. Non riusciva a capire come l'arma avesse potuto resistere nonostante ciò che era successo ma la memoria gli venne in soccorso con diversi esempi in proposito. Si ricordò di un episodio in particolare nel corso del quale in una momentanea perdita della ragione aveva colpito con furia un altro gentiluomo con il calcio del fucile e in seguito aveva notato che l'arma da lui brandita con diligenza tenendola per la bocca era carica fornita di capsula e col cane in posizione di sparo circostanza che se fosse stata nota al suo nemico lo avrebbe indubbiamente incoraggiato a resistere più a lungo. Aveva sempre sorriso nel rievocare quell'errore di gioventù commesso nei primi tempi in cui era soldato ma stavolta non fu così. Searing rivolse di nuovo lo sguardo alla bocca del fucile e per un attimo gli parve che si fosse mosso. sembrava un po' più vicino. Distolse di nuovo lo sguardo venne attratto dalle cime degli alberi in lontananza oltre il limitare della piantagione. Prima non si era accorto di quanto fossero luminose e soffici né di quanto scuro fosse il cielo anche tra i rami che in parte lo rischiaravano con le loro foglie verdi. Sopra la sua testa sembrava quasi nero col passare delle ore qui farà un caldo insopportabile pensò chissà in che direzione sto guardando. A giudicare dalle ombre che riusciva a scorgere stabilì che il suo viso era rivolto verso nord. Perlomeno non avrebbe avuto il sole negli occhi e il nord beh quella era la direzione in cui si trovavano sua moglie e i suoi figli. Bah esclamò ad alta voce cosa hanno a che fare loro con tutto ciò? Chiuse gli occhi visto che non riesco a uscire di qui tanto vale dormire i ribelli se ne sono andati e alcuni dei nostri verranno di certo alla ricerca di vettovaglie mi troveranno ma non riuscì a prendere sonno cominciò ad avvertire una fitta alla fronte un dolore sordo all'inizio a malapena percepibile ma in seguito sempre più fastidioso apriva gli occhi ed era passato li chiudeva ed era tornato maledizione disse a sproposito e tornò a fissare il cielo udì il canto degli uccelli lo strano verso metallico della lodola che ricordava il clangore di lame vibranti si immerse nei piacevoli ricordi della fanciullezza riprese a giocare con il fratello e la sorella corse per i prati gridando per spaventare le allodole stanziali entrò nella foresta tenebrosa al di là e con passi timidi seguì il sentiero indistinto che conduceva alla roccia fantasma appostandosi infine con il cuore che batteva all'impazzata davanti alla grotta dell'uomo morto per cercare di scoprirne il terribile mistero per la prima volta si rese conto che l'entrata della caverna infestata dagli spiriti era circondata da un anello di metallo poi tutto il resto svanì e rimase a guardare la canna del fucile come in precedenza ma mentre prima gli era sembrata più vicina ora gli parve a una distanza incommensurabile e ancor più sinistra per quella ragione urlò e spaventato da qualcosa nella sua stessa voce il tono della paura mentì a se stesso dicendosi se non grido resterò qui fino alla fine dei miei giorni ormai non tentava più di sfuggire allo sguardo minaccioso della canna del fucile se per un attimo distoglieva gli occhi lo faceva per cercare aiuto sebbene non riuscisse a vedere il terreno da nessuno dei lati del rudere ma permetteva loro di tornare al loro posto sottomessi a quel fascino imperioso se li chiudeva lo faceva per la stanchezza e subito il dolore acuto alla fronte la profezia e la minaccia della pallottola lo costringeva a riaprirli la tensione cui erano sottoposti i nervi e il cervello era troppo forte la natura gli dava sollievo concedendogli degli intervalli di incoscienza riprendendosi da uno di questi svenimenti seering avvertì un dolore pungente e lancinante alla mano destra e quando provò a intrecciare le dita o a sfregarle contro il palmo le sentì umide e viscide non riusciva a vedere la mano ma conosceva bene quella sensazione grondava sangue nel delirio l'aveva battuta contro le macerie appuntite del rudere e se l'era ritrovata piena di schegge decise di affrontare il suo destino con più risolutezza era solo un soldato semplice privo del conforto della religione e quasi altrettanto di quello della filosofia non avrebbe potuto morire da eroe pronunciando parole solenni e sagge neanche se ci fosse stato qualcuno ad ascoltarle ma poteva morire da uomo valoroso e così avrebbe fatto se solo sarebbe stato in grado di sapere quando sarebbe giunta la pallottola dei ratti che probabilmente avevano vissuto in quella baracca arrivarono di soppiatto e gli scorazzarono intorno uno di loro salì sulla catasta di detriti che teneva fermo il fucile quindi venne seguito da un altro e poi da un altro ancora di primo acchito Searing li guardò con indifferenza poi con un interesse benevolo e quindi quando la sua mente sconvolta venne attraversata dall'idea che potessero toccare il grilletto del fucile li maledì e ordinò loro di andarsene non sono affari vostri esclamò gli animali fuggirono via sarebbero tornati più tardi per attaccargli il viso rudergli il naso squarciargli la gola lo sapeva ma per allora sperava di essere morto ormai nulla poteva distogliere il suo sguardo dal cerchietto di metallo con il suo interno nero il dolore alla fronte era acuto e incessante lo sentì insinuarsi gradualmente nel cervello sempre più in profondità finché la sua avanzata non fu arrestata dal legno dietro la sua testa per un istante divenne ancora più insopportabile Searing si mise di nuovo a battere la mano lacerata contro le schegge per mitigare quella fitta terribile sembrava che la testa palpitasse con un ritmo lento e regolare ogni pulsazione più acuta della precedente e di tanto in tanto l'uomo gridava poiché pensava che si trattasse della pallottola fatale non rivolse nessun pensiero al focolare domestico alla moglie e ai figli al paese e alla gloria ogni ricordo era stato cancellato il mondo non esisteva più non ne rimaneva nemmeno una traccia qui in questo caos di legna e di assi è concentrato tutto l'universo qui è racchiusa l'immortalità ogni fitta è una vita eterna le pulsazioni scandiscono l'eternità Jerome Searing l'uomo impavido il nemico invincibile il soldato forte e risoluto era pallido come uno spettro aveva la bocca spalancata e gli occhi fuori dalle orbite tremava in ogni fibra tutto il corpo era pervaso da un sudore freddo gridava per la paura non era impazzito era terrorizzato brancolando con la mano lacerata e sanguinante riuscì infine ad afferrare un'assicella e tirandola la sentì spezzarsi era parallela al suo corpo e piegando il gomito per quanto lo permetteva quello spazio ristretto poteva staccarne pochi centimetri alla volta alla fine la diverse completamente dalle macerie sotto le quali erano sepolte le gambe e riuscì a sollevarla da terra in tutta la sua lunghezza una viva speranza iniziò a farsi largo nella sua mente magari avrebbe potuto tirarla verso l'alto o meglio all'indietro quanto bastava per sollevarne le estremità e spingere il fucile da parte nel caso in cui questo fosse stato incastrato troppo saldamente poteva sistemare il pezzo di legno in modo da deviare la pallottola con questo piano in testa fece scorrere l'assicella all'indietro centimetro dopo centimetro usando a malapena respirare per paura di vanificare i suoi sforzi e più che mai incapace di distogliere lo sguardo dal fucile che magari proprio in quel momento avrebbe potuto sfruttare le ultime possibilità che gli rimanevano per lo meno era riuscito a ottenere qualcosa tenendo la mente occupata in questo tentativo di autodifesa avvertiva meno il dolore alla testa e aveva smesso di trasalire ma era ancora spaventato a morte e i denti gli battevano come nacchere la sigella smise di muoversi sotto l'azione delle sue mani lui la tirò con tutte le sue forze fece tutto il possibile per sdraricarla ma questa era finita contro un ostacolo alle sue spalle e l'estremità davanti a lui era ancora troppo lontana per sgomberare la catasta di detriti e raggiungere la bocca del fucile in realtà il pezzo di legno si estendeva quasi fino al ponticello del grilletto libero dalle macerie che l'uomo riusciva a malapena a scorgere con l'occhio destro cercò di spezzare la sigella con la mano ma non aveva punti d'appoggio quando si rese conto della disfatta il terrore tornò a impossessarsi di lui dieci volte più intenso la bocca nera del fucile sembrava minacciarlo di una morte più dolorosa e imminente per punire la sua ribellione la traiettoria della pallottola che gli attraversava la testa lo tormentava con un dolore più intenso iniziò di nuovo a rabbrividire improvvisamente si calmò smise di tremare serrò i denti e abbassò le sopracciglia non aveva esaurito i suoi espedienti di difesa un nuovo progetto aveva preso forma nella sua mente un altro piano di battaglia sollevando l'estremità anteriore dell'asse la spinse con cura in avanti attraverso le macerie accanto al fucile finché non andò a urtare contro il ponticello poi la spostò lentamente verso l'esterno fino a quando non si rese conto di aver superato il ponticello quindi chiudendo gli occhi la spinse contro il grilletto con tutte le sue forze non ci fu nessuna esplosione il fucile si era scaricato quando gli era caduto di mano durante il crollo dell'edificio ma aveva fatto il suo dovere il tenente Adrian Searing al comando del reparto avanzato sul lato del fronte che suo fratello Jerome aveva attraversato durante la sua missione era seduto con le orecchie tese nel suo riparo difensivo dietro la linea del fronte non gli sfuggiva nemmeno il più sommesso dei rumori il verso di un uccello lo squittio di uno scoiattolo il mormorio del vento tra i pini tutti questi suoni venivano recepiti con ansia dal suo udito ultrasensibile improvvisamente davanti a sé udì un debole rumore confuso simile al boato prodotto dal crollo di un edificio attenuato dalla lontananza il tenente guardò l'ora con un gesto meccanico le 6 e 18 minuti nello stesso istante gli si avvicinò a piedi un ufficiale proveniente dalla retroguardia che lo salutò tenente disse l'ufficiale il colonnello vi ordina di far avanzare il fronte e disagiare la forza dei nemici qualora vi imbatteste in loro in caso contrario continuate l'avanzata finché non vi verrà ordinato di fermarvi abbiamo un motivo di credere che i nemici si siano ritirati il tenente annui ma non disse nulla l'altro soldato si congedò nel giro di un attimo gli uomini informati a voce bassa dell'incarico dai sotto ufficiali si erano schierati dopo essere usciti dalle trincee e avanzavano in assetto di battaglia con i denti stretti e il cuore in gola questa schiera di soldati marcia attraverso la piantagione in direzione della montagna costeggiano entrambi i lati dell'edificio sventrato senza notare nulla di strano il comandante giunge a breve distanza nella retroguardia osserva il rudere con sguardo curioso e vede un cadavere semisepolto da assi e legna è talmente ricoperto di polvere che la sua uniforme sembra grigia come quella dei confederati ha il viso giallognolo le guance incavate le tempie infossate e solcate da rughe profonde che fanno apparire la fronte sgradevolmente bassa il labbro superiore lievemente sollevato mostra i denti bianchi serrati con forza i capelli sono impregnati di umidità il viso è bagnato come l'erba rori da tutti intorno dal suo punto d'osservazione l'ufficiale non vede il fucile l'uomo deve essere morto in seguito al crollo dell'edificio è morto da una settimana disse l'ufficiale seccamente avanzando ed estraendo distrattamente l'orologio come per verificare la sua stima dell'ora le sei e quaranta minuti che c'è un'ora l'orologio che c'è